È stato approvato il piano regolatore per il sistema portuale, quali saranno i punti chiavi di questo piano? Sì, diciamo che questo è un insieme di documenti previsto dalla nuova norma, questo piano regolatore di sistema portuale mette insieme vari documenti che in particolare nel nostro caso sono il DPSS, il documento di pianificazione strategica che ha avuto un iter di approvazione abbastanza lungo ma che il 17 luglio è stato approvato con l'intesa appunto rilasciata dalla regione Liguria sulla base dell'intese della regione Toscana e del Ministero delle Infrastrutture quindi insomma un percorso di circa un anno e mezzo è stato approvato e quindi questo piano regolatore di sistema portuale comprende il DPSS che appunto è questo ma anche i due piani regolatori vigenti nei porti di La Spezia e di Marina di Carara. Di questi tre documenti adesso è possibile come dire lavorare sui singoli piani regolatori mentre quello di Spezia per noi rimarrà per lo meno per un certo periodo immutato perché ha ancora molte potenzialità da sviluppare quello di Marina di Carara deve essere rivisto subito perché è un piano del 1980 che chiaramente non va più bene quindi stiamo già lavorando per portare avanti appunto questo nuovo piano regolatore. Con lo stop dovuto all'emergenza epidemiologica i movimenti anche all'interno del porto sono stati ridotti si sta però cercando di ripartire quindi qual è stata la ricaduta e cosa si auspica per il futuro? Sì purtroppo i primi sei mesi sono andati abbastanza male come dappertutto ma anche qua a Spezia diciamo abbiamo registrato mediamente un calo del meno 20% però dico mediamente perché in alcuni mesi ci sono stati picchi addirittura intorno al 40% e luglio ha registrato un meno 13% quindi come dire un dato un po' meno negativo rispetto al 40% toccato a maggio e quindi speriamo che poi nei prossimi mesi questo trend come dire sia in risalita. Il sistema portuale convive con la città e però vuole anche cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini mi riferisco in particolare al tema dei rumori. Sì sicuramente questo è un tema delicato che la città in qualche modo presenta spesso anche ai nostri uffici diciamo che adesso le barriere antirumore su Viale San Bartolomeo sono finite ma non è tutto perché dietro comunque passa il treno e nella gara che abbiamo da poco concluso siamo proprio in fase di aggiudicazione per l'affidamento al nuovo gestore unico ferroviario abbiamo imposto anche l'uso di locomotori ibridi in quella tratta per attenuare appunto il rumore del treno.